Allora Dima, se dovessimo definire un po' questo stage di Montelparo, che cos'è di diverso da tutti gli altri? Ma sai, lo stage di Montelparo è lo stage dove il gotennista fa tennis, nel vero senso della parola, a 360 gradi, non ha mai un minuto di pausa, è coinvolto dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 10, dove l'attività tennistica si associa all'attività motoria, si associa altri tennis, si associa ai tornei e quindi direi che è sempre uno stage gotennista che garantisce la massima qualità, ma qui viene garantito anche la continuità, oltre che tecnica, anche fisica. Per quanto riguarda la parte fisica, direi che la maggior parte dei gotennisti apprezza moltissimo questa attenzione che noi portiamo su questo argomento. Quello che chiede è qualche piccolo consiglio per poter affrontare la parte fisica anche quando si trova nel circolo, perché purtroppo tutti sono di corsa e quello che noi facciamo è curare nel migliore dei modi gli aspetti anche personali dei tennisti. E questo forse è il nostro quid, quello che ci fa fare il salto di qualità rispetto agli altri stage. Ciao!